buona giornata amici da massimo foghetti oggi sabato 27 novembre 2021 siamo pronti per dare un'occhiata ai giornali e tenervi informati e ovviamente abbiamo come sempre il resto del carlino e il corriere adriatico siamo informati a cominciare così di sapere qual è il santo del giorno e vediamo che oggi è una festa particolare si festeggia infatti la madonna per un evento particolare che è accaduto nel secolo scorso si tratta dell'apparizione della beata vergine a santa caterina lavoure a parigi dicendole di coniare una medaglia che portandola al collo avrebbe protetto la persona che l'avrebbe indossata insomma un evento miracoloso a cui i credenti destano particolare venerazione in quel giorno disse la madonna desidero preghiate soprattutto per la salvezza delle anime ed ora diamo un'occhiata anche al tempo per vedere come si evolve la giornata di oggi e vediamo che l'inizio è abbastanza buono questa mattina c'erano delle schiarite soprattutto sulla città di Fano ma nel corso della giornata vedremo che ci sarà della variabilità tra il sole le nubi irregolari con qualche rovescio più probabile tra la notte e il mattino e poi in serata i venti sulle coste spireranno dalla direzione di sud sud ovest sull'interno invece da est sud est le temperature oscilleranno tra i 9 e 15 gradi insomma le minime sono levemente alzate rispetto alla giornata di ieri ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal resto del carlino che stamattina la prima pagina riassume un po' quelle che sono le misure di sicurezza assunte a pesaro ma anche in tutti gli altri centri della regione per salvaguardare le attività natalizie ricci mette la mascherina a natale intitola il resto del carlino è la stretta del sindaco per il centro storico obbligatoria dalle 10 alle 22 di tutti i giorni da oggi al 9 gennaio prossimo e chi non osserva questa disposizione ci saranno multe veramente molto molto salate ma la notizia più eclatante quella che desterà l'attenzione di migliaia migliaia di giovani non solo di pesaro non solo della nostra provincia non solo della nostra regione ma anche di tutta italia è la presenza dei maleskin al vetifrigo arena pesaro vola con i maleskin intitola oggi il resto del carlino e la notizia di prima pagina è dedicata a loro all'arena il 27 gennaio la rock band apre il tour europeo e pesaro è accanto alle principali città di tutta europa le capitali insomma alle città dove migliaia migliaia di giovani assisteranno a questi concerti gli altri titoli riguardano la caritas che evidenzia un assunto dei dati per quanto riguarda la propria attività per aiutare le persone in difficoltà e poi abbiamo la politica con l'elezione del commissario da parte del segretario nazionale letta che è Matteo Mauri e poi ancora un'attività degli studiosi di urbino che in macedonia studieranno i primi europei nella grotta dei teschi e per quanto riguarda fanno ma non solo fanno addirittura tutta la costa da gabicea senigaglia anche la vongola vuole il marchio igp una specie di marchio dop che certifica l'origine di questo prodotto che è mai commercializzato in diversi paesi europei soprattutto in spagna apriamo il giornale vediamo il delirio che scateneranno i cantanti i musicisti dei maleskin e la città è già in delirio per loro caccia all'hotel in cui alloggerà la band da lunedì biglietti disponibili online e ci sono anche delle dichiarazioni di alcune ragazze che subito si sono dette entusiaste di questo spettacolo qui abbiamo Martina Mencaccini sono orgogliosa che abbiano scelto la mia città per il primo concerto del tour europeo e poi ancora Stefania Beni sono loro fan dalle audizioni ad X Factor del 2017 ero proprio lì ad ascoltarli quindi una fan della prima ora e abbiamo anche una dichiarazione di Paolo Costantini che è presidente degli albergatori di Pesaro ancora non sappiamo nulla sull'alloggio scelto dai quattro giovani forse le prime indiscrezioni nasceranno a partire dalla prossima settimana e poi ancora sul resto del Carlino Maneskin all'arena la data zero che spacca il 27 gennaio Pesaro al centro del mondo il gruppo romano vincitore dell'Eurovision apre il tour italiano nello stesso Palace dove erano stati selezionati per l'X Factor nel 2017 quindi una data importante un evento che ripercuoterà i suoi effetti anche dal punto di vista economico su tutta la provincia ed ora veniamo ai problemi passe sul bus? Bene no, io cambio Paese ci sono opinioni diverse di studenti e pendolari sugli obblighi in vigore dal 6 dicembre prossimo se questo farà vaccinare anche gli ultimi benvenga è uno dei pareri positivi dunque tra le novità principali del nuovo decreto varato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi si guarda con attenzione all'estensione dell'obbligo di Green Pass semplice che prevede tampone negativo, vaccino o guareggione da Covid anche sui mezzi di trasporto dal 6 dicembre al 15 gennaio quindi oltre ai treni intercity intercity notte, alta velocità e autobus con un percorso che collega più di due regioni verrà introdotto l'obbligo di certificazione verde anche sui mezzi del trasporto pubblico locale quindi una disposizione tesa a indurre la gente a vaccinarsi sempre di più e il Natale inizia oggi ma con la mascherina la stretta di Ricci in centro storico fino al 9 gennaio volti coperti dalle 10 alle 22 al debutto anche il villaggio di Santa Claus dunque le mascherine diventano obbligatorie in centro storico appunto dalle 10 alle 22 per tutto il periodo delle feste natalizie cioè a partire da oggi sabato 27 novembre fino al 9 gennaio prossimo ieri mattina il sindaco Matteo Ricci ha firmato l'ordinanza per l'uso del dispositivo di protezione individuale e quindi ripeto ci sono diverse multe basta scaricare i malati su Marche Nord è la protesta questa dei sindacati dopo l'aumento a Galantara dei posti letto si amplia la disponibilità di questa struttura per accogliere i malati ma perché allora a Civitanova non si riapre l'ospedale che è stato realizzato appunto per il Covid insomma perché? perché nella nostra provincia sono alle strette gli operatori, il personale il personale di Trebbia Antico ormai è stremato e non si può continuare così ad oltranza con un numero di degenti che è superiore alle possibilità di prestazioni, di cure e da parte del personale giriamo la pagina vediamo appunto l'articolo che riguarda la Caritas l'onda della miseria è sempre più alta il 2021 conferma le cifre pesantissime del 2020 aggravate dalla pandemia per questo l'ente chiede aiuto a tutti diamoci una mano c'è una campagna d'avvento pietrelli non aspettiamo un miracolo per iniziare a condividere ognuno deve rimboccarsi le maniche e fare quello che può e pensate che la miseria è dura sempre ma durante le festività è ancora più dura perché mentre c'è un'atmosfera che molti condividono con letizia con serenità con un senso di pace c'è invece chi soffre e soffre ancora più duramente e quando appunto c'è il Natale e si è in miseria la cosa è ancora più dura Gis sciopero dei padroncini così non si vive consegniamo anche la cartigenica scontata e sosteniamo turni di oltre dieci ore poi se mangiamo fuori paghiamo noi sono un po' le dichiarazioni che fanno appunto questi padroncini dei mezzi di trasporto che ormai anche loro sono alla frutta e poi ancora Ata e Fano contenzioso blocca i fondi abbiamo un articolo di Luigi luminati oggi sull'arresto del Carlino che dà un po' una stretta a questo contenzioso che si propaga ormai da diverso tempo che cosa è accaduto? è accaduto che le divergenze che esistono tra Fano che ha votato del resto in maniera contraria al piano d'ambito questo contrasto che si protrae tra Fano e Ata dicevo fa sì che si dilunghi la soluzione del problema del digestore ci sono 40 milioni in ballo che sono stati così messi a disposizione dal PNR che cosa è accaduto? è accaduto che questo contenzioso arresta questi 4 milioni perché il risponso che è stato dato dal Ministero è quello l'Ata non può fare domanda per avere questi soldi perché non è il soggetto interessato lo possono fare soltanto i comuni e quindi si dilunga ancora la querelle si va avanti i soldi rimangono al palo il digestore non si fa e la questione insomma si dilunga senza soluzione e vedremo come andrà a finire se veramente andrà a finire giriamo ancora pagina e vediamo quelle di Fano altro che venerdì nero eh sì oggi perché oggi è proprio il Black Friday affari a gonfivele secondo il Carlino a Fano impazza la moda del Black Friday è il nostro viaggio tra i negozi ovunque una bella fila di clienti e c'è il caccia all'affare secondo il Carlino c'è un aumento delle vendite i commercianti sarebbero contenti sembra che qualcuno riesce un po' a ripianare i conti che erano il rosso fino all'inizio del mese di novembre e adesso poi si profilano le vendite di Natalia sono soprattutto lungo il corso Matteotti appunto gli sconti più invitanti che vanno dal 20 al 70% sul prezzo di listino per tutto il weekend quindi anche oggi e anche domani quando i negozi saranno aperti della Dora puntiamo a coinvolgere il Movimento 5 Stelle e le liste civiche della Dora Tommaso della Dora è il nuovo candidato segretario per una parte del Partito Democratico che fa riferimento a Renato Claudio Minardi ieri si è presentato ha delineato il partito del Futuro a 41 anni ed è educatore e allenatore di calcio da quasi 20 anni quindi una persona ambezza a stare con i giovani e proprio la vitalizzazione la valorizzazione dei giovani rientra nei suoi programmi guardiamo ad alleanze credibili individuando candidati giusti ha dichiarato ha escluso un'alleanza con la Lega ma guarda con interesse al Movimento 5 Stelle appunto e alle liste civiche il gesto di Lucarelli attacco contro la Cucchiarini così il capogruppo della Lega Gianluca Ilari interpreta la decisione dell'assessore al turismo di lasciare la Giunta al momento della votazione sul bilancio preventivo per il 2022 viene definito addirittura un gesto eroico quello di Lucarelli di non votare il bilancio e poi è un attacco bel e buono contro l'assessore PD Sara Cucchiarini che quel bilancio lo ha presentato insomma la Lega si dice così evidenzia rincalza un po' questa decisione gli dà un aspetto politico un valore politico che probabilmente non ha però insomma è significativo questo atto di rivalza dell'assessore Lucarelli che sdegnato si è alzato dalla sedia ed è uscito dalla stanza con il nuovo ospedale ci guadagnerà la salute dei cittadini del territorio e l'ex sindaco Cesare Carnaroli e l'ex deputato Pietro Gasperoni che intervengono sulla sanità ponendo delle riflessioni che sono riflessioni interessanti a Urbino Mussolini voleva celebrare Dante così è stata inaugurata una mostra che espone per la prima volta le tavole segrete del progetto del regime concepito poco prima della guerra e mai andato in porto un progetto di cui non si sapeva quasi nulla e prevedeva la realizzazione di un edificio ispirato alla divina commedia che sarebbe dovuto essere un omaggio al sommo poeta oltre che sede di una biblioteca a lui dedicata era un edificio che sarebbe dovuto sorgere di rimpetto alla basilica di Massenzio incastonandosi tra i monumenti della Roma antica avete presente la basilica di Massenzio in via di fuori imperiali a Roma quel grande edificio purtroppo rovinato dietro il tempio di Roma e Venere che ha quel bel soffitto a Cassonetti a cui si è ispirato anche Michelangelo per la realizzazione di San Pietro ebbene proprio lì di fronte doveva essere eretto costruito questo edificio in ricordo di Dante però insomma non si è realizzato Urbino è sulle tracce dei primi uomini europei proseguono le attività scientifiche nella grotta dei Teschi in Macedonia nuove indagini stanno aprendo scenari imprevedibili e si attendono clamorose scoperte vediamo ora sul Corriere Adriatico sul Corriere Adriatico la prima pagina è dedicata al ritorno delle mascherine per tutte le festività di Natale non solo a Pesalo ma è opportuno indossarle un po' dappertutto da oggi dalle 10 alle 22 è obbligatorio l'aperto in centro per tutto il periodo delle festività natalizie mentre il resto del Carlino dedicava la fotonotizia di prima pagina ai Maneskin il Corriere Adriatico invece la dedica ad un pericolo veramente più emergente quello della nuova variante del Covid che ci giunge dal Sudafrica la Omicron ci mancava solo la Sudafricana in titola c'è una dichiarazione del virologo Menzo presto per inquadrare la nuova variante ancora si sa pochissimo ma si studia subito per cercare di arginare questa nuova mutazione del virus molto molto pericolosa le tre notizie a centro pagina alla RSA di Galantara personale garantito fino al 15 dicembre e poi un punto interrogativo rebus controlli adriabus confida nel tavolo tecnico l'uomo violento da aiutare il piano va rifinanziato e si parla sempre della violenza sulle donne Tavuglia deve accogliere i rifiuti da San Marino lo smaltimento riguarderà i cosiddetti speciali con 15 camioni in più rispetto agli anni scorsi ed è un provenimento della giunta regionale che desta polemiche vediamo subito la situazione del Covid attenzione ad Omicron l'ultima super variante con oltre 30 mutazioni il sottosegretario della salute Sineri ieri a Senigallia la stiamo monitorando ha dichiarato vietato l'ingresso in Italia da Sudafrica infetterebbe molto di più di Alfa e Delta le altre due varianti con cui il vaccino si sarebbe mostrato efficace potrebbe scalzare la Delta questa nuova variante sembra molto contagiosa vaccinare il più possibile è quello che invita a fare il virologo Menzo solo così afferma si rallenta la diffusione del virus e le sue mutazioni shopping e divertimenti in centro ma soltanto mettendo la mascherina ancora intere pagine dedicate alle manifestazioni natalizie e il rapporto di queste con la sicurezza con la tutela della salute delle persone l'ordinanza firmata dalla sindaco Ricci sarà in vigore fino al 9 gennaio oggi gli eventi al via e vediamo in questa sequenza fotografica pubblicata dal Corriere Adriatico tre momenti delle attività natalizie qui abbiamo il trenino in piazza del popolo a Pesaro con l'albero di Natale poi abbiamo il villaggio natalizio e lo scivolo di via Curiel contapersone e volontari per i mercatini in sicurezza oggi si inaugurano Candelara e Bombaroccio e anche qui controlli rigorosi alla RSA di Galantara personale coperto fino al 15 dicembre la struttura di Trebbiantico ha attivato più posti letto covid però vanno rinforzati gli infermieri e gli operatori sociosanitari abbiamo visto il problema perché questi veramente sono allo stress e insomma non riescono più a respirare e poi il problema del trasporto locale e i controlli mancano ancora autisti sono 15 i conducenti che non sono rientrati in servizio dopo l'obbligo di adottare il Green Pass e i vertici della società tendono il tavolo di confronto con la regione e la prefettura per cercare insomma di far fronte ad una esigenza che è sempre la stessa una domanda che è sempre la stessa nonostante il calo degli operatori recuperare l'uomo violento si può ma il piano deve essere rifinanziato questo mese si conclude il programma Armadio una ventina i casi affrontati spiega Valentina Corinti che la coordinatrice del servizio dico tra noi per uomini maltrattanti il punto di partenza è ridurre il rischio di recidiva e il percorso va ad individuare la responsabilità e la consapevolezza del proprio agire fino a toccare l'emotività della vittima insomma il partner maltrattante e che non si parla soltanto di donne si parla anche di uomini si parla anche di donne perché veramente il problema riguarda entrambi i sessi anche se le vittime sono essenzialmente donne però insomma si considera un po' l'atteggiamento di entrambi si inaugura anche la panchina rossa a Pesaro e ieri a Fano si è inaugurato il centro delle pari opportunità lo vedremo dopo quando apriremo la pagina fanese l'appello della Caritas sta nei numeri in un anno ne abbiamo aiutati 7.000 dal 2019 a oggi il triplo delle richieste da parte di chi non riesce a pagare l'affitto mutuo o utenze e di questo abbiamo parlato e intanto piace l'app che segnala l'inciviltà nella caccia rifiuti abbandonati il report di Marche Multiservizi sul recupero della differenziata superato l'obiettivo proposto dalla Unione Europea insomma per quanto riguarda la raccolta differenziata i pesaresi in genere in tutta la provincia sono abbastanza in linea rifiuti dal Titano a C.A. a Sprete e parliamo sempre di rifiuti la giunta a Quaroli in questo caso ha deliberato l'aumento temporaneo si tratta di 15 camion di residui speciali provenienti da San Marino la consigliera Vitri la consigliera regionale Vitri insorge non voterò alla proposta devono essere smaltiti tutti a dicembre ma che cosa c'è sotto perché questo aumento e intasando ovviamente le discariche della provincia non si fa altro che così decretarne ormai la fine come C.A. a Sprete è destinata appunto a fare e veniamo alla pagina di Urbino Natale Ducale in movimento i presepi partono da Ancona festività tra sicurezza e divertimento una natività di 15 metri donata alla regione si parte il 4 dicembre non ci sarà un'accensione ufficiale delle luci ma dal 4 dicembre inizierà anche ad Urbino il clima natalizio Fano invece scopre il suo pari centro ovvero il centro di documentazione delle donne il centro appunto della legalità il centro delle pari opportunità è aperto in via a Montevecchio è stato inaugurato ieri alle 18 si tratta di un presidio dei diritti umani che si occupa di legalità inclusione e lotta agli stereotopi sarà anche spazio informativo e di orientamento tra città e territorio l'attività è stata elaborata dalla dottoressa Mura della Università di Urbino e ieri sera c'è stato il taglio del nastro da parte del sindaco Massimo Seri e dall'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini con le altre autorità appunto del comune e poi un articolo di spalla sul Corriere Adriatico impianti sportivi comunali ecco il pacchetto degli interventi sono diversi gli interventi che verranno fatti soprattutto nel centro sociale di Ponte Sasso nel campo di baseball nel circolo tennis alla trave lo skate park di Sant'Orso nel campo sportivo e da basket a Gimarra e nel campo sportivo dei carissimi a Fano 2 vongola doc per il mercato fanese lo studio della Uniurbe sulla Purassa quella nostrana resiste di più allo stress da carenza di ossigeno ieri sono stati presentati risultati a comuni e portatori di interesse di Fano Gabice Cattolica Marotta e Senigaglia insomma una vongola doc che può conquistare in maniera più decisa e in maniera più conveniente i mercati e poi Pescamare a Cannes sognando il carnevale da tre anni questo filmato di Rodovichetti e Caprara sta furoreggiando in tutti i festival del mondo un successo anche di tipo promozionale per quanto riguarda la città di Fano sulla Val Metauro della Dora è il nome di Dem verso il congresso messaggio per futuro democratico invece a Marotta alluvione richieste al via c'è il riconoscimento dello stato di emergenza dopo gli allagamenti del 16 novembre residenti e attività possono inoltrare le segnalazioni dei danni fino al 31 dicembre e siamo in conclusione voglio ricordarvi che questa sera alle ore 20 ci sarà in diretta su Fano tv l'accensione dell'albero natalizio fanese e poi lunedì 29 un appuntamento con la casa di babbo natale alle ore 18 i bambini possono chiamare a Fano tv allo 0721 86 14 33 una trasmissione adatta per i bambini e questo è tutto per il momento ci risentiamo noi lunedì prossimo alle ore 7 vi auguro intanto un buon weekend a risentirci a Grazie a tutti.